Ragazzi, novembre, mese di promo e di Black Friday, seguitemi perché c'è una sorpresa per voi, forti del successo che abbiamo avuto con la storia del giubile RRD in giallo fluo, è arrivato il capo iconico della relazione autunno e inverno, ve lo presento Eskimo RRD, lunghezza medio-lungo, tasche ampe laterali, termolastrate, cappuccio con regolatori e zip con dettaglio araccio che possiamo chiudere, l'interno ragazzi vi garantisco che è caldissimo per basse temperature, più badana tra 90 e 100, bellissima la versibilità, vi faccio un regalo, se vi iscrivete, se accedete al link sottostante o in bio e vi iscrivete avrete l'accesso riservato ai discontri Black Friday, affrettatevi perché c'è una promo per voi, vi aspetto, registratevi, ciao! Grazie!